Piatte posate di plastica Sì, perché? Ormai non si usa più la plastica Adesso abbevi ancora il caffè e i bicini di plastica Sì, perché? Adesso la plastica non si usa più Ah, va bene, non lo sapevo Ragazzi, fate come me! Acqua sì, ma plastic free! Sì! Acqua sì, ma plastic free! Acqua sì, ma plastic free! Acqua sì, ma plastic free! Acqua sì, ma plastic free!